A 144 ti dico sì, è un'altra cosa, 138, 140 o 141, alla fine devi pensare che sono due centimetri, un centimetro noz e un centimetro noz, non lo senti neanche, 144 sì. La uscì invece è un po' più dolce, anche sul taglio lo prende un po' dopo, è tutto dolce, è un po' più larga. Più lunga? Sì! Cos'è che ti fa? L'atterraggio, l'atterraggio, ti aiuta un sacco, poi lì sono andato un po' scettico, la prima è ovvio, la prima è sempre quella tra un po' capire, no, devi uscire e tutto quanto, però poi veramente mi sono già adottato a Dio. Io ti consiglio, se hai piaciuta la Ax, la 41, la Lantis, che è molto più incazzata, come è, c'è anche il taglio, è molto più cattivo, è molto, diciamo, reattivo. Sì, quando ti andi, quando ti andi, fai la TIA, ti andi a portare, hai il pieno giro e la tavola mi faccia via. Ok, ok. Ti andi bene, ti andi dietro, tutto sul taglio e vieni via sulla TIA da avanti. Vai, si ti trovo. Vai! 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 Vai!